Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti all'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha detto anche che verranno tassati i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l'intero paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi. Le promesse, ha aggiunto Giorgetti, dimostriamo coi fatti che le manteniamo, perché la crescita conferma le nostre previsioni e i dati di finanza pubblica per quest'anno andranno meglio di come abbiamo comunicato ai mercati e alla Commissione, visto che l'obiettivo di deficit del 4,4% sembrava irrealistico e ora è stato aggiornato al 3,8%, quasi un unicum nel contesto europeo. Stiamo dimostrando che non soltanto rispettiamo quanto detto, ma facciamo meglio. Continuiamo con atteggiamento prudente e responsabile, ritengo che la credibilità sia fondamentale. La Borsa di Milano di colpo perde terreno, il FTS e MIB cede l'1,5% dopo le parole del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che anticipa il progetto di un prelievo inaspettato sulle imprese. Approveremo un bilancio che richiederà sacrifici, il che significa tassare gli utili extra e l'ha detto in un'intervista pre-registrata per l'evento Future of Finance di Bloomberg. E' uno sforzo che deve intraprendere l'intero paese, ovvero i singoli manaccele piccole, medie e grandi imprese. Il Ministro ha anche detto che sta pianificando un'ulteriore vendita della quota di MPS entro la fin dell'anno. Il titolo dell'istituto sta cedendo il 2,8%, la peggiore del listino però è 6 Pemincalo del 5,2% con Stellantis in ribasso del 4,2%. Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.